C'è bisogno di coraggio. Ora, voi avevate, adesso non è che io devo fare il difensore del governo, però nel senso, pochi soldi in mano e quei pochi avete deciso di scommetterli tutti sulla riduzione del cuneo fiscale. Che cos'altro, e questo vi dà il suo atto, che cos'altro si può fare per alzare i salari, insomma, come anche i sindacati chiedono da mesi, per, diciamo, difendere il carrello della spesa? Perché l'altra strada è ridurre i prezzi del carrello della spesa, ma questa non è, diciamo, semplice cosa che, insomma, abbiamo già visto anche nelle scorse settimane. Beh, è logico che, se guardiamo il documento di economia e finanza, i margini sono quelli dai 3 ai 4 miliardi, indicazione che è stata data da parte del Premier Meloni, ma, insomma, è indicazione che era già stata data in precedenza, di utilizzare questa quota, e quindi non in legge bilancio, ma, insomma, con un decreto e anche a breve termine, per il cuneo contributivo, perché sappiamo benissimo che il cuneo fiscale è un'altra cosa, cioè il cuneo fiscale è l'IRPEF, qui parliamo del cuneo contributivo, a favore dei lavoratori. Io sono moderatamente ottimista, perché, lo dicevo anche lo scorso anno, alla fine, poi, quando andiamo a guardare le entrate fiscali, ci accorgiamo che le previsioni, come è sempre successo negli ultimi dieci anni, del documento di economia e finanza, molte volte sono previsioni pessimiste rispetto poi ai risultati. Quindi io penso che ci saranno ulteriori margini di manovra. Poi c'è tutto il tema, che è estremamente, ovviamente, delicato, che riguarda tutti i fondi del PNRR, dove c'è questa interlocuzione molto importante con l'Europa. Sappiamo, insomma, in operazione verità, operazione trasparenza fatta dal governo, che alcune opere pubbliche non potranno essere realizzate entro il 2026. si sta ragionando per utilizzare queste risorse per, ovviamente, altre forme di investimento su opere che sono già in fase di progettazione e di programmazione, ma anche per altri temi, come le ZES e le ZLS, e come anche altre tipologie di interventi che possono essere utilizzati in maniera molto veloce. Noi speriamo. Prego, Pastorella, si mancherebbe. Sì, no, che su questo, come dire, non solo siamo d'accordo, ma siamo d'accordo che ci possano essere investimenti il cui modello ha già funzionato, quindi concentrarsi più che sull'inventare nuovo, sul riutilizzare modelli che hanno funzionato e noi abbiamo proposto in particolare il modello, a proposito di produttività e innovazione, il modello di industria 4.0 che è stato depotenziato nell'anno. Su questo è estremamente chiaro che ci sono due sistemi che vanno in parallelo, cioè la riforma fiscale e la riforma degli incentivi, che viaggiano in parallelo perché? Perché sulla riforma fiscale c'è questa proposta che ovviamente andrà in legge di bilancio o con un decreto legislativo poi ad hoc con l'utilizzo degli utili, quindi dei dividendi aziendali, in che cosa? In ricerca sviluppo, digitalizzazione, formazione e la stessa cosa con un'aliquota ridotta del 15% invece del 24%. Stessa cosa c'è nella riforma degli incentivi, cioè nella riforma dei incentivi, che sono attualmente più di 2.000 incentivi a livello nazionale, di cui due terzi di carattere regionale e un terzo di carattere statale. Nella riforma dei incentivi ci sono gli stessi obiettivi, che sono ricerca sviluppo, formazione, digitalizzazione, transizione ecologica, rafforzamento patrimoniale, quindi vuol dire che sono due riforme che vanno in parallelo per arrivare allo stesso obiettivo. Bittoncio, allora vengo da lei con il tema del debito, quello che preoccupa maggiormente anche Bella. Anche in virtù del rialzo dei tassi deciso dalla BCE per cercare di frenare l'inflazione, nel 2024 l'Italia si troverà a dover affrontare una spesa record per gli interessi sul debito, l'abbiamo letto anche in questi giorni sui giornali. Nel DEF è stimato che gli interessi sul debito sono al 4,1% del PIB, sono 1.400 euro a testa e lo stock del debito viaggia verso, siamo ancora lontani, però il 3, il 3 mila miliardi, mentre io ho passato buona parte della mia vita lavorativa a parlare con un 2 davanti. Ancora c'è questo 2, però speriamo che non arrivi il 3. Dobbiamo ricominciare a guardare con crescente preoccupazione le nostre enorme montagne di debito pubblico, che non è che il Covid ci abbia fatto bene, perché ovviamente è aumentata, non si poteva fare diversamente però. Estevamente è chiaro che c'è stata una forte impennata per le scelte di politica economica fatte durante il periodo del Covid, gli incentivi, gli aiuti, l'emissione di liquidità, i fondi di garanzia, la SAC, cioè tutte delle misure che dopo hanno avuto anche un riscontro, perché non dimentichiamo che insomma c'è stato un forte rimbalzo del PIL, e ci sono settori, se pensiamo al settore del turismo, che nel 2023 supererà il dato del 2019. Quel deficit ha salvato la nostra economia, che altrimenti sarebbe rimasta strozzata in una recessione gravissima. Quindi diciamo che in quel momento storico, senza di quello, saremo probabilmente in default per altre motivazioni. E' logico che il tema diventa estremamente delicato adesso, perché le previsioni per il 2025 è arrivare a 100 miliardi di interessi passivi all'anno sul debito. E anche se quest'anno non è previsto ancora un saldo primario positivo, lo sarà il prossimo anno, si capisce che è un tema estremamente delicato, poi io non sono molto in linea, ma questo direi quasi sempre con Bella, per quanto riguarda le politiche della BCE, ma insomma ce ne faremo un po' una ragione. Io penso che il continuo aumento dei tassi di riferimento abbia creato dei problemi alle famiglie, alle imprese, aumentando la posizione debitoria. Abbiamo visto come sono aumentate le rate degli interessi e delle rate dei mutui, delle famiglie e delle imprese. Anche perché poi l'inflazione europea è completamente diversa dall'inflazione americana, quindi se noi pensiamo di combattere l'inflazione solamente con l'aumento dei tassi in Europa, dove c'è stata una strozzatura molto importante da parte dell'aumento del costo delle materie prime e da parte dell'offerta, che è completamente diversa da quella americana, che è insomma una... Ma non potrebbe essere il PNRR il modo per riprendere... Quindi dopo, per carità, ognuno si tiene le proprie idee, però l'impatto sui conti delle famiglie e delle imprese è un impatto, direi, molto, molto, molto importante. Postorella, visto il... Transitorio però, transitorio. Transitorio, dice Bella. Sì, va bene, Bella. Abbiamo capito che lei è schiacciato sulle posizioni della BCE. No, ma anche Grossi diceva così. Io sono molto sereno. No, io non sono schiacciato sulle posizioni di niente. Sono molto aglioso di avere una banca di vivere a combattere l'inflazione. una scelta da manuale, però non applicabile in toto alla situazione... Bella. Ha un leggerissimo ritardo perché lei è collegato quindi i suoi interventi arrivano con poco timing. È un problema tecnico. Fate da parte della BCE. Io penso che questa, insomma, non sia stata la strada più corretta. Grazie. 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 Grazie.